Un episodio di usura portato a luce dai carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Maggiore Scarponi, come siete arrivati a individuare il presunto usuraio? È stato tratto in arresto un usuraio di Pescara. L'attività è iniziata a seguito della denuncia della vittima, la quale per quasi un anno ha pagato le somme che riceveva in prestito. Erano piccole somme di denaro, di volta in volta, circa 1000 euro, e dovevano essere restituite però a distanza di una settimana con un tasso di interesse del 50%. Quindi 1000 euro presi in prestito, dopo una settimana 1500 euro. La vittima ad un certo punto non è riuscita più a saldare il debito e dopo aggressioni e minacce, e dopo aver dato la macchina, il proprio banco, ma che il proprio PIN, è stata costretta per cercare di uscire da questa morsa terribile a sporgere denuncia. Le somme complessive sono pari a circa 10.000 euro quelle che sono state ricevute. Le somme date sono circa 15.000 euro nel giro di poco tempo. Dall'usura non si esce, con questi tassi è impossibile uscire. L'unica via è quella di denunciare alle forze di polizia che si è sotto usura ed eventualmente si accede poi a una serie di meccanismi, il primo è il fondo anti-usura, che possono aiutare la vittima ad uscire da questo tunnel. Negli ultimi periodi le attività che abbiamo svolto contro l'usura hanno riguardato cittadini privati, non aziende. E questo da una parte è un fenomeno positivo relativamente, mentre dall'altro è un fenomeno preoccupante perché significa che tutte le persone possono finire in questo circolo perché anche la famiglia che si trova in difficoltà per piccole somme di denaro che non riesce ad attingere ai circuiti ordinari finanziari è costretta o decide una scelta assolutamente errata che è quella di rivolgersi a usurai.